È una iniziativa della quale sono molto felice, messa in campo dall'assessore Gallo, in collaborazione con i Gall, realizzata da Alma Viva, che ci dà la possibilità di svolgere in maniera più compiuta, coordinata, l'attività di promozione delle nostre eccellenze, anche delle eccellenze enogastronomiche, perché questo portale offrirà a tutti, ai calabresi, ma anche e soprattutto ai turisti, degli itinerari dove si mettono in connessione le eccellenze dell'agroalimentare con i posti più straordinari della Calabria per riuscire a fare una promozione che sia veramente orientata a fare delle nostre eccellenze e degli attrattori di sviluppo. Spesso negli anni passati la promozione era legata semplicemente a delle fiere o a dei convegni, oggi ci sono tecnologie che ci consentono di fare una promozione a livello globale, dando ai turisti la possibilità di sapere dove possono gustare le nostre eccellenze, per esempio dell'enogastronomia, ma anche i posti della cultura calabrese che possono visitare nei loro itinerari. Quindi davvero una bella iniziativa che racconta un modo diverso di fare promozione in Calabria. La poderosa azione di promozione che sta conducendo il governo regionale per volontà del Presidente Occhiuto ha un altro tassello con questo portale che non sarà, lo voglio dire, l'enciclopedia della nostra regione, è naturalmente perfettibile, aperto a qualsiasi modifica in meglio e che comunque sarà finalizzato a costruire quel percorso per un modello di sviluppo che unisce il prodotto territorio con i prodotti del territorio per fare in modo che in questa regione si ampli l'offerta non solo di enogastronomia ma anche di conoscenza del territorio per noi stessi come calabresi, ma anche per chi e soprattutto per chi vuole fare turismo destagionalizzato, lento, ambientale e vuole conoscere una regione assolutamente straordinaria.